Vaure in onda, i ricordi della valigia, storie dei bellunesi nel mondo, a cura di Marco Crepaz. Bentrovati. Oggi leggiamo la storia Dalla Libia alla Francia, di Martina Reolon. Un'emigrazione durata 40 anni e una vita lavorativa vissuta interamente all'estero. È la storia di Luigi Tormen, raccontata dalle figlie, Luigina e Adele, partecipi anch'esse, insieme al padre e alla madre, Maria Camana, dell'esperienza, spesso dura, della vita al di fuori del proprio paese natale. Nostro papà, precisano le due sorelle, è nato a Belluno il 15 ottobre 1909. Nella 1930 è in Libia, dove inizia a lavorare nell'impresa di costruzioni lonati di Tripoli, prima come muratore e poi come assistente. Partecipa alla realizzazione di opere importanti, come la nuova sede in file di Tripoli e i lavori di difesa a Castel Benito. Il 28 novembre del 1936 sposa Maria, nata il 2 agosto 1910. Prima di sposarsi si erano scritti per ben sette anni, racconta Luigina. Io sono nata nel 1938, ero bambina. Della Libia non ho molti ricordi, ma ho l'immagine vivida del bunker in cui vivevamo e del fatto che intorno a noi c'era solo sabbia. E ricordo bene il ritorno in Italia. Papà aveva firmato per rientrare con l'ultima nave, solo per donne e bambini. Ma ecco il ricatto, era il 1941 e sarebbe potuto salire a bordo solo a patto di partire per la guerra se l'Italia vi fosse entrata. E così fu. Nella 1942 in Albania. Nel 1943 la guerra lo porta in Francia, in Costa Azzurra. Providenzialmente e senza aspettarselo incontra sua sorella, che aiutava i soldati dando loro del cibo. L'8 settembre, data dell'armistizio, fugge da Cannes-sur-Mer e arriva a Verona, dove è salvato dal rastrellamento tedesco grazie all'aiuto di una donna che, quando scendono dal treno, finge che Luigi sia suo marito. In Italia non c'è lavoro e nel 1946 decide di emigrare di nuovo in Francia, clandestinamente. Fino a Torino in treno, poi attraversa a piedi il piccolo San Bernardo. Oltre a confine, può contare sull'appoggio del cognato Rodolfo. E inizia a lavorare nell'impresa Aweillet, a Morange, nel dipartimento della Mosella. Dove poi lavorerà anche Luigina. Nel luglio 1947, dopo la domanda di riconsunzione, spiega ancora Luigina, io e mia mamma lo raggiungiamo. Luigina ricorda gli anni distenti. Nel 1951 nasce mia sorella Adele. In Alsazia-Lorena, prima territorio tedesco e poi francese, noi italiani eravamo visti male. Non era semplice integrarsi. Vivevamo in una baracca, ma un po' alla volta le cose cambiano. Io a nove anni inizio a fare lavoretti in un panificio, mia madre dai contadini. E la gente comincia ad avere stima di noi, finché riusciamo ad acquistare una casetta. Nel 1970, Luigina ottiene la pensione di invalidità per eczema da cemento e la famiglia torna in Italia a Castion, dove realizza il sogno di costruirsi la casa tanto desiderata. Casa in cui Luigina e Adele vivono tuttora. La dipartita del papà è avvenuta nel 1983, quella della mamma nel 90, concludono le due sorelle. Rimane il ricordo di anni belli e sereni dopo il ritorno a Castion. Avete ascoltato I ricordi della valigia, storie di bellunesi nel mondo, a cura di Marco Crepaz.